Salve a tutti amici miei, salve agli amici di Merlosiculo ASMR, ben ritrovati. Oggi proseguiremo ancora con il tema della pioggia, il rumore bianco per antonomasia. Andremo un po' a cullarci nella stanza del Patriarca Ortodosso, dove prevalgono le icone ortodosse, meravigliose, quelle in lamina d'oro. La pioggia alle finestre, battente, gocciolo, è questo suono meraviglioso che si miscela a crepitivo del fuoco del cabinetto acceso. Bene, non mi resta l'ora che augurarvi un buon relax e ci vediamo alla prossima. Ciao. Grazie. 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 Grazie.